su imita il barman shine beh sono stato a lavorare in un villaggio turistico a bali però appena sceso dall'aereo ho visto i trulli ho capito che avevo preso il volo sbagliato buonasera bene bene io venile da paolo salpi fa le cotte omblione bene bene imitazione sbagliata andale ciao shine fatto da su gianni cinelli imita rocco il gigolò donne vostro marito a letto sono anni che vi fa sentire una martire a me basta una notte per farvi beata tonne vostro marito è sempre in viaggio io sarò il vostro trolley piccolo con le ruote e un bel manico du 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 da donne vostro marito è come il 2 novembre io sono donne du 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 da 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 grazie a tutti